Ciao a tutti e ben ritrovati ai podcast di Libri di Montagna, smetto di dire brevi perché ormai sta diventando una presa in giro, comunque podcast in cui vi spiego perché i libri che ho selezionato per voi mi siano piaciuti così tanto. Vi ricordo che per ogni vostra domanda, proposta o richiesta di approfondimento potete scrivermi più che volentieri al mio profilo Instagram Libri di Montagna. Allora il libro da cui il podcast di oggi trae ispirazione perché non lo dedico interamente a Willy Unsold è un libro che purtroppo non è stato ancora pubblicato in italiano, dico purtroppo perché è un libro spettacolare, uno di quelli proprio che ti apre la mente, però stiamo a vedere, anche se l'argomento è un po' vecchio, mai direi mai, mi piacerebbe molto che venisse tradotto in italiano. Comunque il titolo è un po' lungo, mi preparo, è Ascent, The Spiritual and Physical Cast of Legendary Mountaineer Willy Unsold e l'autore è Lawrence Lemer, ovvero Ascesa, la ricerca fisica e spirituale dell'alpinista leggendario Willy Unsold. Quando dico che non lo voglio dedicare completamente a Willy Unsold è perché infatti quello che mi piacerebbe fare con questo podcast è andare a vedere che cosa succede nel mondo dell'alpinismo vero e proprio, cioè abbiamo fatto questa bellissima galoppata inseguendo le metamorfosi di Ken Ford e l'evoluzione dell'arrampicata, ma che cosa succede nell'ambito dell'alpinismo in parallelo? Io non credo che gli americani si siano espressi e si esprimano nell'alpinismo altrettanto al meglio di sé come nell'arrampicata. Allora, non fraintendetemi, gli americani hanno degli alpinisti che sono molto forti e molto bravi e che hanno fatto delle cose molto belle in montagna, per esempio uno di questi è William Sold. Però secondo me è nell'arrampicata che loro, ripeto, si esprimono al meglio, è lì che veramente firmano un capitolo molto importante nella storia dell'alpinismo. Per quello che riguarda invece l'alta quota, l'alta montagna, secondo me un po' di meno. Però, ripeto, andiamo a vedere che cosa succede in quella tranche temporale che va dagli anni 60 al 1975, ovvero a quel decennio d'oro, la Golden Age di Ken Ford, dove i protagonisti erano Royal Robbins e Warren Hardin, fino alla metà del secondo capitolo, tre virgolette, della storia di Ken Ford, in cui appunto si era ad utopia e il re indiscusso era Jim Bridwell. Perché scelgo questa tranche temporale? Allora, perché nel 1958, colpo di coda, gli americani conquistano il penultimo 8000, il G1, perché infatti il decennio che va tra gli anni 50 e gli anni 60 ha visto cadere 13 dei 14 8000 e gli americani, come vedete già, insomma, stavano un po' indietro. Il quattordicesimo, che fu lo Shishapangma, cade nel 1964, perché è l'unico 8000 in territorio completamente cinese. I cinesi ci tenevano da morire, comprensibilmente, ad essere loro i primi a raggiungere questo 8000, per cui avevano chiuso, bloccato qualsiasi permesso alla vetta, dicendo signori, finché non ci arriviamo per primi noi, non ci sale nessun altro. Loro ci arrivano nel 1964 e quindi poi, da allora, anche lo Shishapangma venne aperto a tutti gli altri. Quindi, fino al 1958, quindi quasi fino al 1960, appunto, gli americani non è che proprio brillassero, insomma, colpo di coda, ce l'avevano fatta all'ultimo. E forse non brillavano perché non è che gli americani abbiano delle montagne molto alte, vabbè, mi si può contestare, neanche gli inglesi ce le hanno e loro, però, comunque, hanno fatto il diavolo a quattro in montagna. Questo è vero, però, insomma, sta di fatto che le montagne più alte degli Stati Uniti sono, appunto, nel nord-ovest, il più famoso è il Mount Rainer, che però, insomma, voglio dire, è un 4003. Le montagne di oggi più alte degli Stati Uniti sono in Alaska. Il Denali è la montagna più alta, attualmente, degli Stati Uniti d'America, che è un 6.000, ma io ricordo che l'Alaska è stata aggiunta ai 48, l'Alaska al 49esimo Stato americano, nel 1959. Riccardo Cassin, che conquista il Denali, lo fa nel 1961, ma Cassin era qui in Italia, aveva le Alpi che non erano tanto alte, insomma, non so come dirvi, comunque, di fatto, gli americani non brillano in montagna. E se si vogliono andare a misurare su cose più impegnative, come quelle imalaiane, devono approcciarsi a questo discorso in maniera radicalmente diversa rispetto ai climbers, che hanno le montagne proprio lì sotto casa. Quindi già vediamo le prime differenze tra il mondo dell'alpinismo e quello dell'arrampicata. Ma volevo ancora, prima, finire di spiegare perché avevo scelto questa tranche dal 1960, grosso modo, al 1975. 58, ho detto, gli americani conquistano il G1. Nel 1963 c'è la spedizione americana all'Everest, non per primi, ma comunque dove sale sull'Everest il primo americano, e invece nel 1975 abbiamo una spedizione americana al Nanda Devi. Non è un 8.000, comunque siamo in alpinismo imalaiano. E scelgo questa spedizione non solo perché l'ha fatta William Sold, che è stato un alpinista molto importante nella spedizione del 63 all'Everest, ma perché è l'unica spedizione americana fatta in quegli anni, scusate, spedizione alpinistica imalaiana fatta in quel tempo, a cui sono stati applicati questi concetti da free spirit, che, diciamo, erano così popular a Kenfor. Ma procediamo per gradi. Se io mi devo andare a misurare in un posto molto lontano, come l'Himalaya, questo appunto, dicevo prima, richiede tutto un altro approccio alla montagna. Richiede una programmazione, richiede una preparazione di materiale, di cibo, di selezione dei membri della squadra, richiede richiesti di permesso, richiede soldi. Già tutto un sistema completamente diverso rispetto a quello che c'era a Kenfor. Oltretutto le tecniche di arrampicata erano ancora di retaggio bellico, per cui appunto c'erano i vari campi che rappresentavano quindi la strategia, la tattica di avvicinamento. C'era molto forte ancora anche il concetto del gruppo, nel senso che si parte tutti insieme perché, tra virgolette, ci deve sempre essere carne fresca per essere sicuri di mandare su qualcuno in vetta. Metti che uno sta male, uno di qua, uno di là, almeno qualcuno, arriviamo. E il gruppo, altro retaggio bellico, è perché negli anni, fino al 1900, fino agli anni 80, comunque di sicuro fino al 1975, le conquiste erano una gloria nazionale. Cioè nel 50, il primo 8.000 che l'Annapurna è la Francia che è salita in vetta, poi era Werner Herzog. Se nel 53 l'Everest viene conquistato, è l'Inghilterra, anche se erano uno zolandese e uno scerpa. Nel 54 è l'Italia che arriva sul K2. E così via. Quindi una mentalità, ripeto, radicalmente diversa. Non si dava importanza all'individuo, all'alpinista individuale. Cosa che invece era completamente l'opposto a Camp 4. Noi parliamo di Royal Robbins, parliamo di Warren Harding, parliamo di Lynn Hill, parliamo di Jim Bridwell, di Dean Potter, parliamo di persone. Non parliamo di una nazione. Quindi già vedete quali erano le grandi differenze. Sempre tornando al famoso discorso dei soldi, che sono fondamentali per mandare avanti una spedizione, implica quindi che partecipino a queste spedizioni anche persone completamente diverse rispetto ai climber. Se noi andiamo a guardare i componenti della squadra che nel 63 parte per l'Everest, sono tutte persone che hanno un livello di istruzione alto, sono tutti laureati, cinque di loro hanno anche un PhD, tre sono medici, ma non è tutto. Tutti lavorano dal lunedì al venerdì, tutti hanno famiglie con bambini. Questo lo specifico, perché quando questi americani sono partiti per la spedizione, loro non hanno percepito il loro stipendio, perché sapete che in America funziona così. cari grazie che gli hanno tenuto il posto di lavoro, ma loro non hanno quindi per due, tre mesi quelli che erano, non hanno mandato a casa neanche un centesimo. Quindi non solo loro non percepivano dei soldi, ma hanno lasciato poi le mogli a sbrogliarsela con quello che c'era in casa e a dar da mangiare anche ai bambini. Quindi come vedete, un ambiente completamente diverso rispetto a quello che c'era a Camp 4. E' quello che, più che Camp 4, proprio nella mentalità dei climber, ma va detto nella mentalità dei climber di Camp 4, che sono quelli che hanno rivoluzionato proprio l'arrampicata. Tornando alla spedizione dell'Everest nel 1963, per farvi capire appunto ancora una volta qual era la differenza tra il mondo dell'alpinismo e il mondo dell'arrampicata. Allora, anche se gli americani hanno conquistato un 8.000, comunque il fascino dell'Everest resta sempre molto forte, anche perché nel 1963 c'erano state due nazioni in tutto che l'avevano raggiunto, se non mi sbaglio, e quindi gli americani ci tenevano moltissimo a mandare anche loro il primo uomo sull'Everest. Quindi appunto si organizza questa spedizione, tra l'altro costosissima, perché era gigantesca, con materiale, avevano dato anche molto peso all'aspetto scientifico per riuscire a trovare più fondi. E ovviamente, considerati i costi, era molto, molto importante che ci fosse almeno una persona che riuscisse a salire sull'Everest. Anche poi per tutta la faccena dei permessi, dei visti, che appunto, come sappiamo, nel caso una spedizione fallisca, non è detto che poi o l'anno prossimo riesca a riottenere il visto per ritornare. Magari in questi anni, devo dire, non lo so, ma all'epoca non era assolutamente così evidente, perché venivano distribuiti un tot di numero di visti, non era illimitato. Fino qui, come vedete, gli americani non stanno proponendo nel mondo dell'alpinismo assolutamente niente di nuovo. C'era una spedizione all'Everest, sarebbe stata la terza, si sarebbe saliti per la via che era già stata fatta. Allora, proprio per questo, William Sold e Tom Hornbein, ma soprattutto William Sold, premono per dire apriamo almeno una nuova via, siamo lì, facciamo qualcosa di diverso. Siccome, ripeto, era così importante, era una questione di orgoglio nazionale, era così importante avere la sicurezza di mandare qualcuno in vetta e quindi si sapeva che dalla via normale, dal ghiacciaio del Kumbu comunque si sarebbe arrivati, che la proposta di William Sold generava inquietudine, perché se aprire una nuova via poi si sarebbe rivelato fallimentare, gli americani sarebbero tornati a casa con le pive nel sacco e questo non andava bene. Per cui, dopo lunghi dibattiti, si raggiunse il compromesso. se la cima dell'Everest fosse stata raggiunta in tempi rapidi per la via normale e quindi ci sarebbe stato ancora del tempo e scorte di cibo e di ossigeno a sufficienza, allora William Sold e Tom Hornbine avrebbero avuto la possibilità di aprire la loro via sulla West Ridge dell'Everest, cosa che poi è successa. E in questo caso, veramente, William Sold ha firmato una pagina della storia dell'alpinismo emanaiano, una via, devo dire che non so se è mai stata ripetuta. Comunque, sono stati loro al rientro a casa che hanno fatto veramente qualcosa di straordinario. Non tanto Jim Ridwell che era il capo della spedizione e che ha avuto comunque poi tutti i riflettori puntati su di lui. Poi dopo lui ha iniziato una carriera come guida dei Kennedy, era diventato la guarda del corpo di Bob Kennedy, l'aveva aiutato molto nel corso delle sue elezioni. Però, insomma, tutti i riflettori su Jim Whitaker quando in realtà sono stati William Sold e Tom Hornbein a firmare una pagina della storia dell'alpinismo. Però, non che lui non abbia avuto un'aureola come tutti quelli che andavano sull'Everest in quell'epoca, ma l'ha avuta più a livello nazionale. E andiamo a vedere, perché è stato comunque importante per William Sold questa esperienza sull'Everest. Andiamo a conoscere brevemente chi era questa strana figura, devo dire, questo demiurgo, questo delusione, alla fine era una persona molto depressa. Allora, William Sold nasce nel 1926, quindi un coetaneo praticamente di Warren Harding e conosce un percorso dell'infanzia e dell'adolescenza purtroppo molto simile a quello di Royal Robbins. Un padre alcolizzato, un padre violento, una madre molto religiosa, era protestante ma molto, molto rigida e tutto questo era inserito nel cocktail esplosivo della grande depressione. Per cui appunto un'adolescenza difficile e la montagna diventa, come anche per Messner, anche Messner aveva un padre violento, la montagna diventa il primo luogo di fuga quando la situazione in famiglia diventa insostenibile. Non solo, la montagna diventa anche un luogo di libertà dove io posso essere chi voglio essere, posso mangiare quando voglio, posso mangiare quello che voglio, posso mettermi in maglione o non mettermi in maglione, posso dire le parolacce. William Sould era una cosa a cui mi piaceva tantissimo perché in casa non poteva, quindi era una cosa che faceva, ma soprattutto come per Royal Robbins la montagna nelle sue manifestazioni della natura più violente, il temporale, i tuoni, i fulmini, il vento forte, la valanga che sta per staccare, quindi quando veramente la condizione umana viene esposta in tutta la sua fragilità dal cospetto delle grandissime, grandiose forze della natura, ecco che William Sould che le andava a ricercare ma così come anche le scalate più esposte possibili, più pericolose, le andava a ricercare perché proprio come Royal Robbins voleva verificare di essere capace di farcela nelle condizioni più difficili. e tutto questo teniamolo a mente lui lo farà, lui diventerà famosissimo, lui era un docente universitario di filosofia ma in realtà diventa molto famoso proprio perché lui si applica a fare questi outdoor program immaginatevi come degli scout malaici e quindi lui porta in giro tutti questi ragazzini sceglie anche i più fragili esponendoli a queste esperienze tipo non so sei fiammiferi per 15 giorni un pezzo di pane e basta questi ragazzini che non dovevano lamentarsi perché secondo la mentalità di William Sould era che bisognava farsi forti davanti alle durezze della vita c'è chi l'ha osannato perché ha detto uno come William Sould ha tirato fuori in me la mia self-confidence c'è chi l'ha odiato a morte comunque come arriviamo a Nanda Devi ci arriviamo così nel 49 quindi appena poco dopo la guerra William Sould si laurea si laurea in teologia e decide adesso non mi ricordo più per cosa comunque che volano partire per fare un viaggio un po' avventuroso fino in India partendo appunto facendo l'autostop lavorando sui cargo i genitori erano molto contrari a questa idea di William Sould perché dopo due guerre mondiali dopo una depressione in poche parole dopo tanta incertezza adesso era il momento della sicurezza bisognava avere la testa ben sulle spalle e cominciare a ricostruire un mondo nuovo solido e sicuro in poche parole il germe piccolo borghese che comincia a mettere le sue radici e che sboccia e impera ancora a tutt'oggi William Sould però decide che ora o mai più per cui niente parte parte fa tutto questo viaggio con tutti i mille lavoretti e arriva al cospetto di questo monte sacro pare molto bello che si chiama Nanda Devi lui lo voleva andare a vedere perché era un grande lettore di Shipton di Tillman che sono stati i primi che l'hanno scalato se non vado errata e niente davanti al cospetto del Nanda Devi come Wimper davanti al Cervino lui ne resta folgorato ne resta talmente folgorato che dice io adesso torno a casa faccio una figlia la chiamerò Nanda Devi e quando sarà grande io andrò a scalare con lei su questo monte detto fatto torna a casa si sposa fa quattro figli e la seconda è proprio Devi nel 1975 quindi i tempi sono maturi finalmente per portare la figlioletta Nanda Devi che aveva 21 anni ad aprire una via nuova perché ovviamente William Sold che era un fanatico della montagna come ho detto appunto lui insegnava all'università ma lui era uno come tutti gli alpinisti della sua generazione come abbiamo visto di quelli che sono partiti per il 63 che aveva scusate per la spedizione all'Everest del 63 era uno che aveva una professione quindi lui da lunedì al venerdì insegnava all'università era un insegnante super fricchettone l'università era super alternativa quindi lui veniva chiamato il vecchio saggio della montagna proprio perché era stato sull'Everest appunto aveva questa barba un po' incolta un po' lunga aveva queste camicie di flanella scacchi jeans sdruciti le scarpe da tennis in un momento in cui ancora chi frequentava l'università si presentava in giacca e cravatta e sua figlia ovviamente era stata cresciuta uguale a lui quindi lei non si depilava sotto le ascelle non si depilava sulle gambe i vestiti erano soltanto di seconda mano oppure se li cuciva lei non andava a fare la spesa al supermercato questa era una cosa da mondo consumista lei andava a ripescare la frutta e la verdura tra virgolette marcia perché lei diceva in realtà basta tagliare via un pezzo ma poi ancora buona oppure anche tutti i prodotti giudicati scaduti magari soltanto perché erano da un giorno che erano scaduti quindi insomma un tipo così ma soprattutto una ragazza che in realtà in montagna non c'era mai stata comunque insomma quindi questi due frecchettoni nonostante appunto un padre che ogni weekend andava in montagna era una guida alpina William Sold li portava sui Tetons in realtà appunto il padre evidentemente si era dedicato molto di più ai figli degli altri per quello che riguarda la montagna e forse non solo che non hai proprio comunque di fatto nel 75 ormai William Sold reputa che sia venuto il momento finalmente per celebrare quello che era stato il grande sogno della sua vita e partire ripeto per aprire una via nuova su questo monte sacro alto più di 7000 metri monte sacro che è una storia molto interessante perché era stato chiuso tra l'altro fino al 1975 ecco perché c'è questa coincidenza di date infatti cosa era successo che negli anni 60 sul Nandadevi c'era stata una spedizione super segreta della CIA che aveva collocato una piccola stazione nucleare che aveva il compito di monitorare appunto le operazioni nucleari della Cina se non che nel corso di quella spedizione ultra segreta se non vado errata un soldato aveva voluto un militare aveva voluto salire fino in cima al Nandadevi e nello scendere aveva urtato questa piccola stazioncina facendola precipitare in un luogo dove ancora oggi non è possibile recuperarla che cosa succede che questa piccola stazioncina contiene del plutonio e se questo plutonio dovesse fuoriuscire inquinerebbe tutto il terreno che è un terreno oltretutto per gli indiani che è sacro il governo indiano quindi quando venne a sapere di questa cosa si irritò moltissimo e chiuse la montagna per 15 anni non chiedetemi perché poi alla fine l'aria l'aria persa ma di fatto comunque nel 75 riaprì la montagna e allora William Sold appunto fa 2 più 2 dice è giunto il momento partiamo e andiamo quindi a vedere che cosa succede quando ad una spedizione alpinistica si applicano appunto si applica una mentalità da free spirit perché allora vabbè viene selezionato un certo numero di membri tra cui questo è molto importante ci sarà John Roskelly che all'epoca aveva 27 anni John Roskelly oggi è un piolet d'or alla carriera ma era un alpinista a me già vien da ridere molto famoso perché lui era assolutamente apertamente pubblicamente platealmente contrario alle donne in montagna e alle donne in spedizione ricordiamoci che siamo anche comunque negli anni 60-70 in pieno femminismo e questo appunto non aveva alcun timore alcuna remora nell'esprimere le sue opinioni sull'argomento e devo dire che io sono una donna posso dirlo voglio comunque spezzare una lancia in favore di Roskelly perché lui era serissimo a me non so perché mi fa morire da ridere però su sulle due donne che sono state con lui in due spedizioni francamente io penso che lui in realtà avesse anche espremesse del buonsenso perché quando appunto lui stupito chiede come mai Nanda Devi venisse in spedizione con loro che non era mai stata in montagna ad aprire una nuova via su un 7000 erotti io credo che onestamente tutti i torti non ce li avesse comunque quando William Sold mette insieme questa spedizione lui la fa ancora con diciamo un'impostazione classica però mescolandola con dei nuovi criteri per esempio non ci deve essere un leader in realtà c'è però comunque tutte le decisioni devono sempre essere prese in gruppo quindi si perde una quantità di tempo allucinante poi perché bisogna fare le liste precise di tutto quello che c'è nelle varie casse della spedizione mettiamole dentro così sentiamoci liberi e ovviamente per cercare le cose si perdeva altrettanto tempo con John Roschelli che freggeva perché John voleva diventare invece un alpinista professionista e vivere di libri di conferenze quindi lui si rendeva conto che aveva un curriculum ancora troppo corto per vivere di questo per cui lui invece andava in montagna con una determinazione che era all'opposto agli antipodi rispetto alla concezione di William Sold che dove invece per lui era l'esperienza infatti cosa succede il primo meeting con tutta la squadra in genere è un meeting dove si decide appunto le tappe soprattutto cosa portiamo William Sold esordisce con allora siamo tutti riuniti qui per la spedizione al Nanda Devi che cosa ci aspettiamo da questa spedizione come come crediamo che ne usciremo cambiati come come saranno i nostri rapporti con i nostri compagni in che cosa potremmo esserci di sostegno ecco pare che tutti quasi ignorarono queste domande e si misero invece a discutere su appunto la corda i chiodi il materiale eccetera eccetera allora poi altre cose vengono applicate pochi portatori perché noi non siamo gli uomini bianchi che sfruttano i poveri scerpa molto ecologici su questo c'è una ragione ma in questo super ecologismo per esempio non si porta la carta igienica questo sarà un elemento importante perché inquina che più direi basta ovviamente ci fu tutto un dibattito su quanta corda portare perché Rose Kelly dice visto che andiamo in montagna con due o tre persone che non sono esperte dobbiamo portarci tanta tanta corda anche per mettere le corde fisse quindi affinché tutti possano salire ovviamente mega dibattito con William Sold che ovviamente era un grande nemico della corda fissa perché dice uccide l'avventura dell'alpinista che deve invece scoprire tutto da solo finché vabbè alla fine lo si riuscì a riportare ad una certa ragionevolezza allora si parte tutti si parte grandi tensioni tra John Rose Kelly appunto che era il più agguerrito William Sold e Nanda Devi quindi focolaio di tensione comunque vengono anche tra l'altro travolti da un monsone che li costringe a giornate intere in tenda e William Sold e sua figlia tra l'altro sono particolarmente piegati Willie da una dissenteria allucinante dalle emorroidi e Devi da dei problemi gastrointestinali che lei si porta dietro da una vita intera com'è come non è alla fine John Rose Kelly e altri due riescono ad aprire questa via a salire in cima al Nanda Devi scendono convinti che oramai visto che la spedizione era talmente degenerata che tre membri erano pochi tipo erano una decina tre se ne erano andati e uno di questi era niente po po di meno che il capo spedizione ecco quindi che John Rose Kelly era abbastanza convinto che una volta che loro tre fossero scesi dal Nanda Devi si sarebbe tutti tornati a casa e invece William Sold che ripeto stava male insieme alla figlia comunque nel vedere le corde fisse sebbene lui fosse stato così contrario all'inizio in realtà gli viene la voglia a 49 anni era stato considerato troppo vecchio per essere lui il capo spedizione piccolo particolare il capo spedizione so to say ne aveva 35 ed era considerato all'epoca già avanti negli anni meno male che su queste cose il mondo è cambiato comunque insomma William Sold vede questa cima vede il suo sogno sa che non è così facile tornare vede questa vecchiaia anche lui che gli si avvicina vede la malattia lui che si è sempre così imposto che bisogna sempre sfidare le durezze della vita e dice no io voglio salire nonostante ci sono lì le corde salgo e John Roschelli gli dice stai attento guarda che tutta una operazione di Jumar tu non sei tanto forte non so sei sicuro di volerlo fare e ovviamente John Roschelli viene attaccato come essere qualcuno che voleva la gloria soltanto per sé non voleva condividerla col gruppo quindi tace quando però anche Devi dice beh papà andiamoci insieme o comunque Willy dice Devi tu vieni con me a questo punto John Roschelli un'altra volta non può stare zitto questa è un'altra sua caratteristica non riesce a tenere la lingua a freno per cui un'altra volta dice Devi tu stai molto male guarda che è molto faticoso salire col Jumar un'altra volta mi chiedo perché dovevano attaccarlo non è che stesse dicendo delle cose fuori di testa comunque insomma di fatto lui osa esprimere questa sua opinione ad una donna all'unica donna della spedizione nel pieno degli anni 70 quindi in pieno femminismo e qui arriviamo alla scena madre quella che è rimasta indelebile nella mia memoria quella che più mi ha colpito di tutto questo libro Devi a questo punto si sente sfidata quindi davanti a questa esternazione di John Roschelli fissa blocca il suo sguardo gelido negli occhi di John Roschelli e chiede che qualcuno le passasse il barattolino del peanut butter glielo danno lei non abbassa lo sguardo ficca nel barattolino l'indice e il medio le due dita con cui lei si è ripulita le parti intime per questi tre mesi perché ricordiamoci che sono partiti senza carta igienica li ficca dentro il barattolino del peanut butter dopodiché si mette le dita in bocca con il peanut butter succhia il peanut butter estrae dalla bocca soltanto il dito medio e lo mostra a John Roschelli Nanda Devi purtroppo morirà due giorni due o tre giorni dopo non morirà perché è caduta in un crepaccio non morirà perché è scivolata non morirà per nessuna difficoltà alpinistica morirà per una infezione gastrointestinale William Sold non si riprenderà mai più dalla morte di questa figlia di cui in parte lui era responsabile di cui per tante cose insomma era il suo sogno William Sold faceva molta fatica ad accettare la realtà lui viveva nel suo mondo era molto amato ma se tu volevi essere un suo seguace dovevi esattamente fare come lui altrimenti c'era con lui o contro di lui quindi questa morte della figlia è uno schiaffo in faccia nel senso lo riporta quella che ha la brutta realtà non si riprenderà più torna di nuovo all'università ma ha perso la verba ha perso quella carica di energie che aveva prima e morirà in maniera tragica e in un modo che ecco questo è quello che ha fatto definitivamente mi ha fatto prendere definitivamente le distanze da lui lui ogni anno organizzava appunto a settembre all'inizio dell'anno accademico un tour sul Mount Rainer proprio per iniziare i ragazzi all'esperienza della montagna portando persone che non erano mai stati in montagna su un ghiacciaio di 4.000 erotti metri quando partono le condizioni meteorologiche sono pessime mentre salgono in questo gruppone che noi tutti sappiamo che il gruppone in montagna non va bene incontrano che sta scendendo Yvon Schwinard ricordo grande compagno di scalate di Royal Robbins nonché fondatore di Patagonia il quale li vede e vede anche tutti questi ragazzi e sconsiglia molto a Willy Unsolde di salire ma Willy che era quello che lui ricercava le manifestazioni più grandiose della natura proprio come momento massimo in cui l'uomo si può confrontare con se stesso figuriamoci se torna indietro però un conto se sei tu un conto se ti porti in giro 20 o 30 ragazzi e quindi appunto loro continuano una valanga si stacca e travolge Willy Unsolde e la ragazzina che più lo ammirava quindi che era più vicino a lui in tutti i sensi anche proprio sul sentiero gli altri ragazzi restano miracolosamente illesi e riescono a scendere da un ghiacciaio con le scarpe da tennis scendono cantando e osannando ancora Willy Unsolde poi ognuno trarrà le proprie conclusioni comunque le conclusioni invece di questo podcast sono queste allora io credo che ancora una volta si possa confermare che il vero contributo americano alla storia dell'alpinismo sia nel climbing e non nell'alpinismo abbiamo anche visto che l'alpinismo resta un ambito diverso perché se si applicano se si applicano proprio queste la mentalità del free spirit non funziona la spedizione sul Nanda Devi è stato un fallimento d'accordo John Roschelli è riuscito ma in sé è stato chiaramente un fallimento quindi restano due discipline diverse ma il grande merito degli americani ecco perché sono stati rivoluzionari hanno firmato un capitolo importante e che hanno sviscerato hanno staccato l'arrampicata dall'alpinismo fino a quegli anni lì l'arrampicata era sempre stata considerata una disciplina propedeutica alla montagna invece con la storia di Camp 4 gli americani proprio la staccano la rendono una disciplina a sé stante questo è molto importante questa è stata una vera rivoluzione nel mondo dell'alpinismo e ultimo non da ultimo un'altra delle grandi differenze tra alpinismo e arrampicata è che nell'alpinismo comunque la vetta continua a restare primaria va bene aprire nuove vie però comunque alla fine tu devi arrivare a una vetta la stessa cosa invece non succede nell'arrampicata dove al contrario la cosa che più è importante è la via e non il punto di arrivo allora si chiude anche questo brevissimo podcast di Libri di Montagna io vi ringrazio per l'ascolto e ci ritroviamo al prossimo podcast grazie a tutti grazie a tutti